acquisti all'estero senza fare acquisti impossibile acquisti shopping shopping si può comprare in un negozio al mercato o in un grande magazzino negozio store store oppure shop shop grande magazzino centro commerciale shopping center shopping center oppure mall mall mercato market market se c'è vale sempre la pena di visitare il mercato delle pulci mercato delle pulci free market free market chi ci aiuta il venditore la venditrice salesperson salesperson e a chi rivolgere le nostre dimostranze il direttore la direttrice manager manager di solito i cartelli sono chiari ma è sempre meglio saper dire entrata entrance entrance uscita exit 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 e in particolare uscita di emergenza emergency exit emergency exit ecco altre parole legate allo shopping vetrina l'attrina display window display window caffa check out check out abbiamo bisogno di aiuto e vediamo qualcuno che non sembra un turista si può chiedere scusi lei lavora qui scusi lei lavora qui excuse me do you work here excuse me do you work here a volte ci serve il consiglio del venditore posso consigliarmi un momento con lei can you help me for a moment can you help me for a moment un commesso esperto ci preverrà così come posso aiutarla signore signora o più direttamente che cosa cerca che cosa cerca è il momento di descrivere esattamente ciò che vogliamo ciò che abbiamo in mente cerco qualcosa di più piccolo I'm looking for something smaller I'm looking for something smaller o invece più grande I'm looking for something larger I'm looking for something larger ed ecco un'altra possibilità più economico più economico less expensive less expensive o di qualità migliore of higher quality of higher quality o semplicemente come quello che ho visto in vetrina just like I saw in the window just like I saw in the window e c'è la risposta classica che tutti hanno dato una volta sto solo guardando I'm just looking I'm just looking e se siamo fortunati è proprio quello che cercavo this is exactly what I've been looking for this is exactly what I've been looking for si può ammettere questo mi piace I like this I like this a volte si può dire in tono cortese questo non mi piace I don't like this I don't like this oppure uscirne gentilmente grazie ma non è quello che cerco grazie non è quello che cerco thanks but this isn't what I'm looking for thanks but this isn't what I'm looking for alla fine si arriva al prezzo quanto costa? how much does it cost? how much does it cost? a volte si può tentare un allusivo si può avere uno sconto? is there a discount? is there a discount? cosa imperta il prezzo? quel che conta è che sia in vendita è in vendita? is it on sale? is it on sale? peccato è troppo caro per me it's too expensive for me it's too expensive for me ma sì dai perché no? non siamo all'estero tutti i giorni e la commessa ha preso messo a posto tirato fuori e messo via avanti prendo questo lo compero I'll buy it I'll buy it dove posso pagare? where can I pay? where can I pay? la cassa è lì the checkout is over there the checkout is over there pago con carta di credito I'll pay with a credit card I'll pay with a credit card prego ecco il resto here's your change here's your change prego ecco la ricevuta fattura here's your receipt here's your receipt let's see you do it what's left after the purchase? it's not left to keep the gap and remember everything we learned the journey is over and also the adventure in the new language it just was a taste and you have left the desire to continue right? we enjoyed we hope it was like stesso per voi. Ora vi invitiamo ad accompagnarci nello studio di un'altra lingua non meno bella. Grazie, ciao e ricordate come si dice? Arrivederci!